Questa è una cosa che sanno pochissimi, Gurulandia è registrato in una stanza di un paesino di 10.000 abitanti e tu ti vedi arrivare in questo posto, Vittorio Sgarbi con l'auto blu, le scorte e non si fatturava sui 100.000 euro mensili prima di Gurulandia, ora c'è un sito lo certo come ti dicevo se io ti chiedo qual è secondo te la puntata che mi ha portato più pendite noi siamo su un fatturato di circa 700.000 euro mensili di cui il proprio obbligatore è stata una giornata pazzesca ti racconto sta scena? Vai S'è arrivato a Montecarlo e ci sono tutti questi yacht assurdi, bellissimi Quale sarà quello di Sgarbi? Il più grosso Non più sbagliato No, 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 bisogna andare in piena Ho fatto vedere uno store con cui facevo 60.000 euro mensili, tipo sì Profit In Australia ho subito razzismo nei miei confronti, quasi schiavitù Vieni da lei Sì, la te Devi tenere in puntata, devastata Fatti vedere Schambendo la mia macchina e con quei soldi lì che erano gli unici che avevo mi pago un corso di sei mesi a Cambridge per l'inglese Wow Che l'esplosione della formazione e anche dell'agency è arrivata molto grazie a Google Marco, benvenuto sul canale Grazie a te Come da tradizione, noi partiamo sempre un po' più dall'inizio Tu che hai giusto un ponte così per sport, no? Sì Sai che la prima domanda è sempre quella un po' più difficile Perché è con chi sei, cosa fai, eccetera Io di solito chiedo chi sei e qual è il tuo business? Ok, io sono Marco Cappelli, ragazzo di 31 anni E qual è il mio business? Quali sono i miei business? Sperchiamo di più, diversi Diciamo che principalmente il mio business core è comunque quello della vendita di prodotti digitali a 360 gradi Anche io ho un'agency, come so, anche come mi dicevi prima Però a noi è un'agency un po' diversa Diciamo che siamo più specializzati nello sviluppo Sempre rivolto ai prodotti digitali Quindi noi sviluppiamo un mobile app, software Dove sto qua qui e le rimendiamo E poi sì, sono conduttore e founder di Urlandia, del podcast E ovviamente ho un'accademia di formazione e faccio anche informi Quindi tre, praticamente, ma provare Esatto, sì, sì, sì Ok, partiamo dall'inizio Ti chiedo in modo un po' più riassuntivo, insomma Da dove sei partito, proprio anche i primi anni Tu sei toscano? Toscano, sì, 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 ancora Ora di perdere No, no, se mi puoi raccontare i primi anni tuoi Anche partendo dagli studi Quindi un attimo per inquadrati, no? Famiglia, eccetera Ok, allora io vengo da una famiglia Durante la mia infanzia era benestante Ok, il mio padre era imprenditore Mi va a commerciare a mamarmi e graniti Ok A Carrara, mia mamma è sempre stata casalinga Ho due sorelle, una più grande e una più piccola E sono quello di mezzo E abbiamo vissuto un'infanzia serena, felice, tranquilla, ok? Normalissima Sì Andavo a scuola E il poveriggio andavo a giocare con i miei amici Uscivo fuori, sempre all'aria aperta E tempi non era come non lo sai Cioè, niente Stavo bene, stavo bene Poi sono andata alle superiori E da lì ho passato un periodo un pochino più buio Nel senso che magari con cattive compagnie Non ne so Però a un certo punto ho un po' perso la strada Ok Che facevi? Istituto tecnico-industriale Perito meccanico Feci quella scuola lì perché i tempi a me piacevano i motorini C'è andare in motorino, quella roba lì Io pensavo vado a fare tecnico-industriale-meccanico Imparo Invece non c'entra mai soltanto niente Tornio per il 39-0 Ma perché infatti odiavo quella scuola Non mi piaceva assolutamente Non ci andavo Facevo sempre forca, si dice da noi Sì, come si dice? Sì, si bigiava Eh, si bigiava Quindi, insomma, l'ho finita proprio a fatica la scuola, diciamo Ok Questo è un grande riassuntone Però quindi ti sei un po' perso via L'hai finita comunque Quindi ti diplomi Che cosa fai? Mi diplomo e comincio a lavorare come portalettere Per il posto di Naleane Ok Come mai? Perché cercavo lavoro Trovai questo concorso L'idea della mia parla Di cercavo Il tuo papà non aveva mai avuto Il mio papà no perché già in un'azienda poi cominciò ad andare peggio Oggi è fannita Nel tenderno non c'è più Quindi cercavo lavoro e vedi questo annuncio Mi ricorderò anche dove ero i posti italiani E cercava un posto come il postino Certo Bellissimo Bellissimo Allora io provo e mi prendono Però contratti brevi Due mesi, tre mesi Poi te lo rinnovavano quattro mesi C'è proprio il postino quindi Il postino, portavo le lepide Sette ore e mezzo Da lunedì al venerdì Per un 1300 euro un mese Ma a quei tempi io Cavolo, è il paradiso Eh beh Sì, poi avevo tutta la mia famiglia Che è un po' famiglia Vecchia scuola, diciamo Il lavoro statale era Tipo il son Il posto fisso Esatto Il posto famoso, il posto fisso Cioè era Era il sogno di sempre E quindi erano tutti contenti e felici Prima è che questo indeterminato Non arrivava mai Ok Tra l'altro io Una cosa in notte ho detto Facevo anche il pizzaiolo Che quello lo facevo già Quando andavo a scuola La sera Nel mentre quindi Quando facevo il postino Facevo il postino la mattina Sette ore e mezzo Poi la sera andavo a fare Ok Le pizze Che lavoravo Lavoravano tanto Era un gran lavoro Poi Anche lì Ero abbastanza sereno Contento, aspettavo questo posto fisso Poi niente Succede per caso Cioè ad oggi ringrazio Veramente il cielo Perché Non mi ha dato quel posto fisso Perché probabilmente A quest'ora ero sempre lì E invece poi è cambiato Ti avrebbe entrato a forasso Ti avrebbe entrato a forasso Nella famosa ruota del crisi Esatto Esatto E qual è quindi Il punto Un pochino di svolta Cioè quando ne esi Esco quando dopo due anni Quel punto doveva scegliere O mi dava il contratto A tempo indeterminato Non mi lasciava a casa E decido di non lasciare A casa Ok Depressione totale Zero Perfine proprio io Lì l'avevo detto anche In un altro podcast È il momento in cui Ho perso Totalmente fiducia Nell'Italia Nel nostro paese Come prospettive Per il mio futuro Perché cavolo Era impegnato tantissimo Era un lavoro statale Di cavolo ma se addirittura Lo stato Non mi premia Per tutto Quello che ho fatto In questi due anni Cioè Dove vado a finire qua Capito? E allora lì Con Alice Che è appunto La mia moglie Ci siamo guardati Un po' intorno Proviamo ad andarci Ok Proviamo a trovare Fortuna altrove Vediamo se da qualche Altra parte Riusciamo a Quanto meno Capire cosa voler fare Del nostro futuro Perché arriva sempre Quel momento in cui Ti senti un attimo perso No? Certo E non sai cosa fare Dove andare Sei lì Fermo Che ti guardi intorno E noi abbiamo deciso Di prendere per la strada lì Lei lavorava? Lei non lavorava Se era appena laureata Perché lei ha fatto la magistrale Poi dopo ha fatto anche No scusami La triennale Poi dopo la magistrale A quel punto succede Che mia sorella più grande In passato Lavorò per la Walt Disney Come cameriera In un ristorante all'interno Del parco Del parco di divertimento Quindi Perché non andate là Allora Cosa succede? Per andare a lavorare là C'è da fare un colloquio In inglese Immagino A Los Angeles No il primo colloquio Lo fanno via Skype Ah ok Zoom Poi se passi quello Vengono a Roma loro Ah sì sì Vengono proprio a Roma Due volte l'anno E devi andare lì Il primo però serve proprio A vedere il tuo livello inglese Quindi io avvio Zoom E questa signora Comincia a parlarle Gli scopri con Muti smeto Quindi non è andata Non è andata Ok E lì ancora mi incazzo Perché ormai avevo la fissa Che volevo andare a fare Questa esperienza in America Certo Scambendo la mia macchina Che a tempo era una Renault Clio E con quei soldi lì Che erano gli unici che avevo Mi pago un corso di sei mesi A Cambridge Per l'inglese Wow Così Ok Io dico Cazzo Non è possibile che Io voglio andare a vivere all'estero Voglio tentare la fortuna Voglio provare a fare Quest'esperienza nuova Ma senza l'inglese Mi rendevo conto Che non era possibile E quindi Vado all in Ok Vendo la macchina E vado a Cambridge Proprio là andavi Non è che colmai Ho preso l'anno del volo E sono andato a Cambridge In una casa famiglia Dove non avevo nessuno di italiano O parlavo inglese O parlavo inglese O mangiavi Esatto Da solo quindi Da solo Solo totale E Alice veniva Ogni due settimane a trovare Ah Cazzo Così anche si E' imparato l'inglese E' imparato l'inglese E' imparato anche bene Ok A quel punto Mi faccio il colloquio E mi prendono Ah ok Quindi sei tornato lì Ti prendono Quindi vai effettivamente A lavorare Vado a lavorare A Orlando In frode Due orette da Miami Ok E ci sto 15 mesi Esperienza che Straconsiglio A chiunque Mi rivolgo alla telecamera Vai Se uscite Dalle superiori Dall'università Volete fare un'esperienza All'estero Fatela Perché vi fa crescere Tantissimo Sotto ogni punto di vista Perché poi Spesso anche i guru Formatori Riparano sempre I business Isolamento Roba Per l'amore di Dio Ci sta Queste esperienze Qui veramente Ti aprono la mente In una maniera incredibile Ti arricchiscono culturalmente Veramente In un modo molto Molto importante Ti fanno crescere Tantissimo persone Che poi sono tutte cose Che nel business Aiutano tantissimo Certo Quindi quello Ti ha proprio Cambiato Immagino 15 mesi Tanto comunque Un'ora e mezzo Quasi Doveva finire O l'hai interrotta tu? No doveva finire Perché il visto dura 12 mesi Poi te lo rinnovano Per altri tre E poi basta Ma quello Prima di partire Sapevo già Allora è proprio un'esperienza E poi lì Te la fai E vabbè Bellissimo Non sto qua a raccontare Quell'anno lì Perché mi ci vorrebbero Sette puntate Però immagino anche Il contatto con il pubblico Ti ha aiutato molto Probabilmente Sì sì Assolutamente lì Vabbè Perché lì Sembra la Disney Bello Parco divertimenti Tutto favole Invece quando ci lavori Disciplina Militare Sì sì Però ti insegnano tanto Ok E anche la vendita Perché il cameriere in America Non è come qua Che c'è lo stipendio fisso Quello è Certo Più vendi più buoni Sì siamo stati a New York Adesso l'abbiamo visto Guadagnano più dalle mance Sì esatto Però Soprattutto Se ci sono le gratuiti incluse È il 18% Fu il conto No? Sì Quindi ovviamente Più il conto è alto Più il 18% Tu è alto Esatto Esatto Quindi te devi Spingere Selle eccetera Bravissimo Quindi impari Tutte È vero Vendita È vendita Impari tutto Delle tecniche Poi torno in Italia O continuo Torno in Italia Ma giusto un mesetto Non mi ricordo Massimo due E già No 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 Bisogna andare Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio più Non ce la faccio più E allora poi si decide Di ripartire Questa volta Per simile Per l'Australia Anno infernale Quello invece Al contrario di Orlando Quello per me è stato Veramente un anno Inferno Alla cercavi in Australia Non lo so Ero sempre in un periodo In cui cerchiamo Cerchiamo Andiamo Vuoi sperimentare Vuoi sbiorare Influenze anche Sì Qualcosa arriverà Io ero molto convinto Del fatto che Andare all'estero Fare queste esperienze Nuove Qualcosa mi portava Comunque io Mi sentivo Che stavo crescendo Però non avevo bene La stella polare Bravo La metà dentro di me Non sapevo bene Qual era Era un'esplorazione Tosale L'Australia L'Australia ho subito Razzismo Nei miei confronti Quasi schiavitù Cosa facevi Sul pizzaiolo Tutto l'anno Sì Ovviamente sì C'è i colleghi Sì sì Gli australiani Lì ho subito questa cosa Non so se Penso che era Sono nel posto In cui lavoravo io Sì E invece sono stato sfortunato Allora subito Dai oh italiano Di merda Polisciste piatti Muoviti Roba così È pesante È difficile Però anche quelle Penso sono cose Che ti facciano crescere Che hanno Sì Fanno la corazza E soprattutto Se inserino il rispetto Io avendolo subito Sulla mia pelle Non mi permetterei mai A giorno d'oggi Di farlo Certo Sai cosa vuol dire Esatto Quindi Comunque è una roba Che ci sta Lavoravo tantissimo Non mettevo da parte Niente Quindi poi arrivai In fondo All'esperienza australiana Che ero Stremato Sì Stremato E poi hai visto Party Google Come uscire Come ne vengo fuori Come ne vengo fuori Ok Ma chiaro Parti Come fare soldi online La prima luna La frase Quanti anni avevi a quel tempo lì Era 2018 Quindi Io sono del 92 25-26 anni E sì Poi quindi Da lì parte Come fare soldi online E mi capita Poi hai visto Mi si ottimizza Il feed di Facebook Perché Certo Tutte le ad E arrivano tutti E poi Poi 2018 Cavolo era il momento Non c'erano tanti Di Google No Per quanto è che fuori Business Online Ti intervisto io Poi alla fine Finisce così Ah sì O più seriamente Era il 2019 Ok quindi Già dal 2019 Cominciava Il 2018 Erano veramente in pochi C'era Big Luca Mitco Cosentino C'era Tindaro Battaglia Arnau Ok Il primo è stato Thomas Io che l'ho trovato Ah ma Corrigi È arrivato un po' dopo Considera Thomas E gli faccio complimenti sempre Perché Dal 2018 C'era già E' del 2000 Lui Sì Lui ha iniziato È incredibile Però a me capitò Invece una sponsorizzata Di Antonio Vida Che insegnava A vendere prodotti Su Amazon Sì Quello è stato Il mio primo business Ho comprati il corso Non solo il suo Poi ne comprati diversi americani In cui avevo Rispendevo un formazione A quei tempi Qui c'era vedere Prodotti su Amazon Fecevamo Amazon FBA Subito Il mio primissimo Modello di business Con i soldi da pizzaiolo La formazione sì Però poi il business L'ho avviato con i soldi Di mia moglie Ve li sono fatti prestare Perché non ne avevo Lei ha sempre creduto a me E li dava Diciamo Nero comunque No no assolutamente sì Ma io a lei devo tutto Ce lo ripeterò all'infinito E lei sapeva veramente Una cosa sola Lei ha sempre creduto a me Anche quando Ha dovuto aiutarmi Economicamente Non si è mai tirata indietro Cioè veramente è Speciale Poi tra l'altro Tutto oggi Lei lavora insieme a me Semplicemente Spesso le persone Vedono Sono me Perché io sono il front Ok Ma l'atto e i Soprattutto Io ti assicuro Che un 70% È lei Cioè lei ormai Fa molto più di me L'atto pratico Proprio di un agency stessa L'atto operativo No sì E è fabolosa Non la cambierei con nessuno E Flavio Io ti ho detto Sì sì E un posizionamento Pazzesco Sì sì E di fare i yacht Con lui Da Ponte Carlo Sotto Una giornata Che non c'è Assolutamente Non li racconto Flavio Obbligatore È stata una giornata Pazzesca A parte vabbè Lui è Tipo Per me era Veramente Un'emozione No perché Comunque Flavio Obbligatore Mi sono sempre detto Quando ho avviato Con Ulandia Era intervistare Flavio Obbligatore Silvio Berlusconi Purtroppo Silvio Non è più possibile Però quando è Flavio Allora sei arrivato A Monte Carlo Ti racconto sta scena Vai Arrivo Hai visto Non so se ci sei mai stato A Monte Carlo No vabbè Comunque c'è il porto Sono tutti questi yacht Assurdi Bellissimo Quale sarà Quello di salio Il più grosso Non ti sbaglio Non ti sbaglio È una nave da crocea Un tragitto Praticamente 18 piani Non lo so Bellissimo Allora ok Insomma entro E ci saranno state Tipo 20 persone Dell'equipaggio Tipo una roba Assurda Ok E visto non è che Ti fanno fare il tour Dello yacht Cosa che io speravo Vivamente Come quando si va Come si va a casa No? Esatto No zero Io siamo entrati Guarda C'era una ragazza Mi porto nella stanza Dove poi arriverà Flavio Ci hanno fatto aspettare Un'oretta Posizionamento Ci stavo Mi potevo aspettare Anche sei ore Non è un problema Però ecco Da quando siamo entrati Alla stanza Dove si faceva Non so Avrò camminato 10 minuti Su questo yacht Che è veramente enorme E mi guardavo intorno Cioè Non credevo ai miei occhi Lì vedi veramente Altri livelli Altri livelli Cioè Un salone da parrucchiere Un bar Ovunque Addirittura A un certo punto C'è Una porta Dove dentro c'era Un cinema Una sala cinema Dentro di un yacht Per fate capire Insieme a me C'era Roberto Che è l'altro co-conduttore Roberto Prima di fare Tutto quello che fa oggi Lavorava proprio Nella penne di coccodrillo Non faceva penne di coccodrillo Ok Guarda Tutte quelle punture Di quel cinema Sono fatte In pelle di coccodrillo Quella specifica Pelle di coccodrillo Lì costa 100 euro Al centimetro quadrillo Al centimetro quadrillo Quella madonna Al centimetro quadrillo E pensa a me T'ha pezzata T'ha pezzata con questa Quella di coccodrillo È una roba Fuori di testa Quindi lì Te lo mostra Te lo fa vedere Certo Lo tocchi con mano Non dici Sì sì È molto Esci da lì Io sono uscito Da quell'intervista Da quella giornata Che saltavo Tipo come un grillo Una botta di mindset Assurda È stato di standard Adesso Bellissimo Bellissimo Mi è piaciuto il momento Zacco Poi ovviamente È arrivato lui E Proprio Sprigione Energia Te l'avrei chiesto Infatti È molto distante La maggior parte Penso il 99% Degli ospiti Abbiamo avuto a Grunland Sono tutti Molto Fiendi Molto Socievoli Che ti danno Confidenza Che ci parli Eccetera Eccetera Noi invece è arrivato Ci è seduto Facciamo un'intervista Mezz'ora Grazie a tutti Sono un piacere Ciao Certo Posizionato Posizionarsi Ma ci sta Certo Te lo aspetti Assolutamente Però è stato bellissimo Sì Mi sono perso un attimo Nella storia Era arrivato Non mi ricordo neanche io I was an FBI C'è anche la storia Sotto canale YouTube Di questo Racconti Questa parte qua Di ammazzia an FBI Sì 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 Quindi lì Ho visto un po' Tutte le dinamiche Insomma Dell'account Che non ha funzionato Cioè Ha funzionato Ma hai avuto degli impedimenti E ti sei accorto Del fatto che Non hai il controllo Quindi sei rimasto scottato Da questa cosa Questo è stato il primo business No? Sì primissimo Subito dopo? Parto del dropshipping Cioè Continuo comunque A vendere prodotti Ma mi stacco da Non so Prodotti fisici Comunque Quando è proprio fisico Ok Guarda io Ti dico la verità Ho sempre avuto No non dico fortuna Perché non è fortuna E non credo alla fortuna Però Diciamo Non mi piace neanche Elogiarmi Sì Comunque Quando ho avviato qualcosa È sempre andata bene subito Diciamo così Ok Grazie a Amazon Che andò bene subito Anche quando mi sono stato a casa Amazon Facevo dropshipping Con prodotti fisici E comunque andava bene Poi la vera svolta Per me arriva Quando scopro I prodotti digitali Perché è lì Che mi si apre Veramente un mondo Pazzesco Secondo me Ok Come li scopri? Li scopro perché Ovviamente anche lì Feed molto ottimizzato Mi arrivavano un sacco Di sponsorizzate Di prodotti di vario tipo A un certo punto Arriva questo store Che vedo di un competitor Che si chiamava One Preset Lo ricordo ancora Perché lo studiai Giorn e notte Quello store Non so Probabilmente c'è ancora Tra l'altro Che vendeva questi Lightroom Preset Che cazzo per esempio C'era tipo dei filtri periste E cazzo dicevo Perché cazzo Questo vende davvero Questa roba qui E non spedisce nulla La scarichi direttamente Non era un ebook Perché se c'era vista E rivista Era una roba particolare Allora volevo provare anche io Senti veramente Non ce n'era E non ce n'era pochissima Allora Compro questi prodotti da lui E li rivendo Non si fa È illegale Non fate come me Però a quei tempi ero piccolo Spenserato Volevo testare Ma è così all'inizio Devi testare Volevo testare Poi me li sono fatti rifare Una volta che ho visto Andava Cazzo L'ho lanciato E' una bomba Cioè Fatturavo probabilmente Inizialmente anche un pochino meno Rispetto ai prodotti fisici Ma guadagnavo comunque di più Perché i margini erano molto più alti In America vendevi O in Italia? Sì sì Subito in America Sì sì Stasi in Non hai costi di spedizione Niente prodotto Non hai niente no? No niente Una volta che hai il prodotto Te lo vendi Ai costi delle ads E basta Certo Gli iniziati sono quelli Perché poi Non spedisce nulla Non hai magazzini Logistiche Fornitori Non hai costi di prodotto Non hai niente Quindi fai il tuo store Cioè lo testi Vedi che funziona Poi fai più store O ti concentri su uno No io poi ho cominciato a scalare Anche su Esatto Oltre più store Essenzialmente Ah io una cosa che faccio sempre Quella di Lancio Scalo Esco Quindi lancio lo store Lo porto a un fatturato decente Lo porto ad avere Una storicità Di almeno sei mesi Quindi almeno sei mesi Cerco di rannarlo Sì Calo quanto più posso E poi faccio l'exit Questo è l'exit Sì sì Noi lo facciamo spesso questo Perché ormai abbiamo un pattern Diciamo Non posso dire vincente Perché è impossibile Anche questo lo devo dire Lanciare dieci prodotti E che dieci prodotti ti vadano Cioè Non è possibile Però diciamo Su dieci prodotti Riusciamo a farli andare bene Milamente sei Sette Perché sappiamo ormai Cosa funziona Cosa no E come farlo funzionare E poi li rivendiamo Facciamo le exit Questo con l'agency Sì sì È il business dell'agency Questo Come si fa l'exit Di uno store del genere Eh dipende Noi abbiamo una società tedesca Sì Che è sempre interessata All'acquisizione di prodotti digitali Con una storicità Di almeno sei mesi E con un fatturato superiore A 30 mila euro mensili Quindi se Faccio anche un posto Un annuncio Certo Se qualcuno di voi Ha un prodotto digitale Che ha una storicità Di più di sei mesi Almeno a 30 mila euro mensili Potete contattarmi Che ve lo vendo Tempo 10 secondi Perché noi cercano sempre Altrimenti Ai tempi C'era L'exchange di Shopify Non ciò se conosci Comunque era un marketplace Dove potevi vendere gli store Ok Adesso non c'è più Questo l'hanno chiuso Però c'è Flippa Che è comunque un'altra piattaforma simile Dove appunto Puoi mettere in vendita Quello che è il tuo brand Il tuo store Dei tuoi prodotti E te lo acquisiscano E lì puoi metterlo Anche se Magari L'hai lanciato da due mesi Se non ho fatto ogni tanto C'è sempre qualcuno Magari alla ricerca Di un qualcosa Di già ambiato Pronto a lungo Certo Il più semplice Certo Adotti digitali Anche lì In ottica di uscita Di exit Sono sempre più appetibili Rispetto ai fisici Sì Perché tutti Gli uoghi benefici Certo L'agency si avvia in questo modo Abbiamo uno store dopo store Sostanzialmente Sì Quindi non hai uno store Da tanto Cioè da anni Praticamente Io ho uno che Non l'ho mai venduto Ma non posso dire Qual è Non l'ho mai detto Ma lo dirò Una volta Mi è successo A parte su YouTube Tante volte l'ho fatto Ma una volta in particolare Ho fatto vedere uno store Con cui facevo 60 mila euro mensili Tipo Profit Non fatturati E il giorno È tutto Documentato Potete trovarlo Tranquilamente Il giorno dopo La feci vedere solo Ai miei studenti Oltre solo a chi Era nel mio percorso formativo Certo E il giorno dopo Ce n'era tipo dieci Uguali identici Proprio plagiati Con lo stesso logo Si chiamava Vlogsong A questo punto posso anche dirlo Si chiamava Vlogsongs.com E il giorno dopo E il giorno dopo c'era tipo Songs Vlog Vlog Son senza la G E tutto uguale Identico E è andato proprio a rovinarsi Quindi da quel momento Ho deciso di Certo Io non farlo più Non faccio più Quello errore Per dare un'idea Su uno store Da 60 mila di profitto Qual è il fatturato? Domanda Siamo sul 60% Chississimo Si 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 Con la roba È infattibile Con i prodotti digitali Ma anche L'infobusiness Per esempio Perché Vi dico sempre È un grande Ottimo modello di business E consiglio a tutti Di farlo Proprio perché sono tipo qui Perché è La vendita di un corso È un prodotto digitale Con tutti i benefici Che ne conseguono E addirittura Ha i ticket Eschegli siamo proprio Alla apoteosi Certo Del margine Certo A me capita di vendere Veramente per corsi di formazione Affiancamenti A 3-5 mila euro In organico Cazzo quello è 3-5 mila euro Di margine Puliti Pazzesco Quindi È chiaro c'è tanto lavoro dietro Poi lì magari Il costo prodotto Io ce l'ho Perché un team Ci lavora Certo Però comunque I margini sono stellari A che punto entra la formazione? La formazione entra Quando io Per divertimento Già Facevo YouTube Sì Facevo un po' di video YouTube Vedevo All'epoca c'era Samuele Ferrari Che ha intervistato tra l'altro Sì Che saluta Ciao Samuele C'erano insomma Questi YouTuber americani Che facevano vedere Dropshipping Eccetera eccetera Voglio provare Però assolutamente Quando ho iniziato YouTube Era puro divertimento Io non lo facevo Con un'ottica di Voglio vendere qualcosa Ok Poi cominciai a parlare Di prodotti digitali Facevo vedere Quello che facevo io E vedevo che c'era Sempre più interesse Nei quelli che erano I tempi gli iscritti Al mio canale Che sono sempre stati pochi Però già quelle Due o trecento persone Che mi iscrivevano Ma perché non Fai un corso Cioè Me lo richiedevano È un'esigenza Che ti hanno chiesto Sì esatto Ah vedevo Quasi Esatto E poi c'è Ovviamente a quel punto Ci saranno Di cavolo Due o trecento persone Che mi stanno richiedendo Un corso A riguardo Se io faccio questo corso Non vendo All'epoca Mi sembrava Il primo corso Non vedevo Trecento euro Vabbè Fai il trecento per trecento Posso farci qualcosa No Ovviamente avevo tanta paura Lì poi quando parti Con l'infobusiness C'è sempre la famosa Sindrome dell'impostore Arrivano sempre Tutte le due Cioè Non ti credi mai Abbastanza Da poter insegnare Apro parentesi E la chiudo subito Io sono dell'idea Che la sindrome dell'impostore È fondamentale Fondamentale Se vuoi lavorare Con etica E professionalità Ok Se sei un fofagun Non ti serve Se vuoi lavorare Con l'etica Allora quella ti serve Ti serve come? Metti in guardia A ragionare Vuoi sempre dare il meglio Non Vuoi Sempre ricevere Feedback positivi E bisogno di conferme Costanti E per ricevere queste conferme Devi ovviamente Dare tanto valore No Sì Quindi quello ti serve E quindi niente Ho deciso di fare Questo corso E mi avviai Anche in questo mondo Della formazione Che adoro Oggi Ti giuro E forse la cosa Mi piace di più Ti dà più soddisfazione Sì assolutamente Perché il prodotto digitale Lo vendo È chiaro Mi porta tanti soldi Io Tanto sicuramente Ve lo chiederai E te lo dico subito io Noi siamo su un fatturato Di circa 700 mila euro mensili Di cui 300 Lato formazione E agency E 400 Dall'e-commerce Quindi Io dall'e-commerce Fatturo molto di più Ok Quindi Li faccio ovviamente Certo Ma se tu mi dicessi Guarda Devi scegliere uno O l'altro Allora io ti faccio Comunque solo L'altra Formazione Lo stesso Sì perché Quando vieni a letto Arrivano Messaggi Le testimonianze Ringrazioni Ti senti che stai Aiutando altre persone Il team Che c'è dietro Che noi Per me il mio team È proprio una vera e propria famiglia Quanti siete? Siamo in 20 In tutto Sì Siamo in 20 Sì 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 E come lì È bello Quando si fai le call settimane I meeting È bello C'è una soddisfazione diversa Per me Poi quando Quando fai ottenere risultati Agli studenti Comunque gli cambio il percorso Cioè È impattante La formazione Meraviglioso Cioè Quando Prendi un Ora qui Non voglio fare Perché sembra che faccia vendita Questo dato Ma non l'avamo Non la voglio fare Non la voglio fare Non mi piace Perché non sono Il tipo Non sono il tipo di personale Capito Che viene qua No 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 Comunque è una cosa Molto molto bella Quando io per esempio Proprio ieri C'è un messaggio su Instagram L'ultimo studente Mi ha scritto Guarda io Ho fatturato 400 euro oggi Ho fatto un profitto Di 400 euro oggi Considera che li guadagni In una settimana Spaccandomi la schiena Come magazziniere Mi stai cambiando la vita Ecco Lì te Cavolo Cioè Dici Wow Mi hai letto Cioè Sono disfatta Cavolo Sono bellissimo Quando entri in gioco L'altra soddisfazione L'ultimo Gurulandia Allora Gurulandia Ok Perché scusa Tu sei arrivato al punto Che avevi l'agency La formazione Quanto fatturare Prima di Gurulandia Trovo molto meno La formazione Che l'esplosione Della formazione Anche dell'agency È arrivata Molto grazie a Gurulandia Anche dell'agency Anche dell'agency Sì No Aspetta Perché te Intendi agency Lato e-commerce Intendo agency Lato sviluppo City web È diverso No no L'e-commerce Già andamano bene Però Lato formazione Esminuto City web Mobile app Software Per aziende Perché noi facciamo Anche B2B Anche il caso No Gurulandia Mi ha aiutato tantissimo Diciamo a noi A livello di fatturato Sotto qui Il ramo aziendale Lì Siamo esplosi Da gunare Da un anno È stata una strategia Di marketing Non l'ho mai legato Sono del genere Sincero e trasparente Anche in questo caso È stata una strategia Che ha portato Sui frutti E anche lì Quando mi guardo indietro Mi faccio Pacchettina sulla spalla Perché ci vuole Diciamo che Ai tempi Io cercavo Un qualcosa Perché avevo capito Una cosa fondamentale Se aumenta La tua visibilità Cresci Con il personal brand Di conseguenza Poi aumenta Anche tutto il resto E quindi Come facciamo Però aumentare Questa visibilità Senza usare I soliti influencer Che usano tutti Fare i tiktok Chiamare Eddie Biff Ok Non potevo fare Questa roba qui Capito Chiaro Quindi Con le ads banalmente Sì ma anche le ads Io Tutto oggi faccio le ads Ma mi sento sempre C'ho questa roba Che sono sempre uguali Sempre uguali C'è una rotura Di coglioni Tra Poi Anche il prospect Si sta stufando Devi diversificarti E fare un qualcosa Di fresco Di nuovo Perché se no così Sei diverso E quindi Vai in risalto Rispetto alla massa Perché cazzo Al giorno d'oggi Competitor Ce ne sono tanti Lato formazione Make money Siamo veramente in tanti Poi il traffico Costa sempre di più Il traffico Costa sempre di più Bravissimo Non si legano tanto Quanto con un podcast Esattamente Il podcast Ti dà visibilità Credibilità A livello di Se parliamo proprio Di funnel Nella parte di mofo Quindi di educazione Del prospect È una roba assurda Perché Quando ti fai una ads O un video youtube O uno short O un tiktok Che ti va virale L'utente ti guarda 60 secondi Poi sparisce Nel podcast Nel podcast Hai la possibilità Di far stare Un utente Un'ora Un'ora e mezzo Per ogni puntata Lì Ad ascoltare te A vederti A capire chi sei Cosa fai Anche se non sei ospite Ma senti un semplice conduttore Comunque C'è il tuo volto C'è Interagisci Dici Comunque Hai modo di dire La tua Si legano Si crea relazione Allo stesso Esatto Quindi quello E' un mezzo potentissimo Infatti guardi Ho appena avviato Un'agency Dove Facciamo i podcast Facciamo i podcast Per il formatore All'azienda di tour Non in una nicchia specifica C'è bellissimo Assolutamente Secondo me Il giorno d'oggi È quasi fondamentale Infatti Secondo me Non voglio Pliccare di umiltà Però Io sono stato un po' Quello che ha lanciato Questo format in Italia Ho lanciato Gullandia Adesso tutti Ovviamente Stanno A ruota Si si Io ti ho conosciuto da lì Quindi non lo nego Anzi No no Ci sta Ora sai In questo caso Il timing è molto importante Gullandia non credo Sia replicabile Per i livelli Che ha già raggiunto Capito Certo Quindi Su di questo Ci siamo piazzati bene Siamo posizionati bene Sì O che sì L'ho avviato Principalmente Per questo motivo qui Poi io Come tanti Inizialmente Mi concentravo Solo ed esclusivamente Sui guru Online Ok Gullandia Gullandia Esatto Poi Le cose si evolvono E ho detto Cerchiamo di spaziare Sì Proviamo a chiamare anche persone Che non sono affini A quello che vogliamo poi Dire Vendere A quello che è il nostro format E vediamo se riusciamo Se la cosa funziona Certo Certo Per ampliare il pubblico Dici Ok Bravissimo Perché ho capito Una cosa fondamentale Che inizialmente Che inizialmente Non pensavo Chiaro che poi Testando Inizialmente Capisci Spesso e volentieri Tante persone Tante persone Quando avviano un format Tipo il mio Si Concentrano su Il potenziale pubblico Che potrebbe essere Potenzialmente interessato A quello che hai da offrire No Quindi te vuoi vendere Un percorso Un corso di dropshipping Vai a chi è interessato Appunto Al dropshipping Certo Invece Noi ci siamo detti Perché non proviamo Ad andare su Su proprio neanche Conosce Il business online Un pubblico Totalmente differente E magari Lo facciamo appassionare Al nostro mondo E questa cosa Ha funzionato tantissimo In breve tempo Comunque Unissimo tempo Sì 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 Io Vado da Vittorio Feltri Vittorio Feltri È seguito da persone Che non ci incastrano Una mazza O che insieme Eppure Tante persone Mi sono venute A conoscenza di me Tramite la puntata Vittorio Feltri E poi hanno acquistato Quelli che erano I miei servizi Io utilizzo Un Anche questo è molto interessante Un software Si chiama Iros Non so se conosci Quello fondato da Alex Becker Tra l'altro Adesso ci ha fatto un exit Da 100 milioni Esatto Iros mi dà l'opportunità È pazzesca Secondo me Di tracciare Al centesimo Ogni singola persona Che acquista Un mio percorso Di formazione Una consulenza Una ad Un sito web Eccetera Eccetera E riesco a capire Quello che è il suo percorso Come ha fatto Arrivare a me E soprattutto Riesco a vedere Da quale Precisa puntata È arrivata Questa persona Ok Questo è fantastico Perché ci permette A 360 gradi Di capire Qual è La tipologia di ospite Che funziona meglio Su chi puntare Eccetera Eccetera L'unica cosa È che tante volte Mi mette in difficoltà Perché Se io ti chiedo Qual è secondo te La puntata Che mi ha portato Più vendite Il più Error Nel tuo proprio Quindi Big Luca Formatori Tutti Mi dicono così Invece Big Luca Thomas Marklein Invece no La puntata che mi ha convertito Di più È Davide Marra Ah vedi Che è l'attuale conduttore Di mosche selvagge Certo Che non c'entra niente Quindi però Ti fa capire Che spesso e volentieri L'oceano blu È la strada Da prendere Quindi uscire No Dalli schemi Testare Veramente Tante cose Capire Che direzione Di queste cose No Ho scelto un po' No Vedi Tiriamo fuori No Che questa cosa di Iros È figo Eccezionale Sì sì Tante persone Specialmente Nel livello di chiamare Formazione eccetera eccetera Se non c'entrano solo Ed esclusivamente Veramente su Te magari stai chiamando me Perché sono qui in target Con te no E non hai mai pensato Di chiamare Simon Aventura Simon Aventura Esatto Invece per me È proprio quello Che ha funzionato Perché vado A prendere Una fetta di pubblico Che non arriverebbe mai Altrimenti a me E che quegli altri Non stanno pensando Di prendere Certo Però dopo questa intervista Tutti Finita Finita lì E basta Ok Esatto Come timing È fondamentale E quant'è che esiste Gurulandia Non ammetto È pochissimo Sì un anno In 11 mesi Figurate Quanti ospiti Eh una settimana Per 11 mesi Non lo so Ok Comunque sopra i 50 ospiti Penso siamo già Neanche un anno Praticamente Avrà avuto questi risultati Subito hai visto La conversione Con l'agency La formazione O è arrivata Col tempo C'è stato un punto di svolto Questa è una bella domanda Diciamo che Non c'è stato un punto di svolto È stato graduale Nel senso che Più cresceva Gurulandia E più Cresceva poi Il fatturato Non c'è stata proprio quella Una puntata in particolare O un momento In cui È stato molto graduale Anche Il fatturato mensile Veramente È proprio Se ti faccio vedere In un grafico Così Così C'era E poi Sì 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 È proprio Mese dopo mese Dicevi mi sembra In qualche intervista Per tre Sì sì Più o meno Diciamo che Il lato formazione Ne si fatturava Sui centomila euro Mensini Prima di Gurulandia Ora Siamo sì Trocento E ti dicevo Hai qualche aneddoto Oltre a quello Libriatore Ma con Gurulandia Ne avrei da raccontare Veramente Tantissimi Confetti Per esempio Quando eravamo andati Nella redazione di libro Ci siamo divertiti tantissimo Ecco Gurulandia è un progetto Che amo particolarmente Proprio per questo Perché non è solo Una questione di Aumenti del fatturato Della visibilità Del personal brand Nesta roba qui Che sì Bello Sicuramente Però è proprio Il network Che mi dà Perché mi dà La possibilità Di conoscere Personaggi A cui non avrei mai Pensato Di conoscere Di avere rubri E soprattutto Di vivere Dei momenti A volte veramente Assurdi Che ho avuto Sono cose Che magari Non posso dire Però ho visto Essere negli uffici Di libero In casa Di Simone Aventura Con Giuseppe Cruciani Andrea Prez Ah Cioè Vittorio Sgarvi Che considera Questa è una cosa Che sanno un pochissimi Gurulandia È registrato In una stanza Un paesino Di 10.000 abitanti Si chiama Pescia A 5 minuti A Montecatini Terme In Toscana E è sopra un bar Preso dai cinesi Con tutta la gente Sai Non voglio parlare male Però Operai Con la morettona Che giocano Che giocano a brisa Classica Ti vedi arrivare In questo posto Vittorio Sgarvi Con l'auto blu Le scorte Anche quelle lì Del posto Che cazzo Sta succedendo Cioè Una roba assurda Per me È meraviglioso Se mi sta Arriva il caro E poi Esce dall'auto blu E si mette a sedere Al bar Così A parlare con tutti Eccezionale Sì sì no Fantastico Cioè Sono successe Le cose assurde Poi Sempre in quel posto lì Ci ho portato Cioè I personaggi Disparati Quando venne Vanna Marchi Le risate Ci siamo fatti Andrea Presti Che è Un bodybuilder Sì sì Che ha partecipato A Mister Olimpio Adesso Lui è arrivato A parte che non passava Dalla porta È immaginente Borzone Enorme Che ci fa con questo Perché vieni Con questo borzone Entra in ufficio da me E prima dell'intervista Fà ragazzi Aspettate Io adesso Non posso Fare l'intervista Prima Devo mangiare Ok Come se io Entrassi qui adesso No aspetta Devo mangiare Vabbè Apri un borzone Cominci a tirare fuori Gallette Merluzzo Pollo Sì Riso Così C'è un tavolo Piero di roba Cominciamo a mangiare Però un grande Presto veramente Tanta roba Anche lui È forse l'ospite Con un mindset Più pazzesco Che lo abbia Deve avere Una disciplina Un'ossessione Per fare Quello che fa lui Assurdo Assurdo Per lui lo riporta Anche nell'ambiente Imprenditoriale Quindi No no È fortissimo Andrassi fortissimo Ho portato Lorenzo Ruzza Un altro Che Non ha bisogno Di presentazioni Stephen Basalari Che ci sono Ecco anche con Stephen Abbiamo fatto Tante cose Perché poi hai visto Ecco la roba Veramente Bella è quella Cioè se ti faccio vedere Adesso la rubrica Del mio telefono Io ti assicuro Che secondo me Ha un bel valore Sì certo Certo Nel mentre Poi ti è nata Anche una figlia Nel mentre Mi è nata la figlia E lì Vabbè Non c'è business Non c'è niente Che possa competere Sì Che l'emozione Più grande Che ci vede Si Si vede La mia bambina Bellissima Asia Tra l'altro ora Non so quando uscirà Questa puntata Però Da qualche giorno Diciamo così Sì Compio un anno Pazzesco Lì ti cambia Veramente tutto È una roba Proprio emozionante Lì Anche a livello di Mentalità Cioè Tutto ciò che fai Non lo fai più per te Lo fai proprio per lei Spesso tante persone Mi chiedono Ma Quando ti nasce la figlia Dopo non sei in difficoltà Perché magari Pensi di non avere tempo Per lei O Sacrifici del tempo Al lavoro No Questa roba Per me assolutamente Non è così Anzi Io sono ancora più carico Ho ancora più voglia Di fare Di lavorare Proprio perché So Che ho una figlia E le voglio Assolutamente dare il meglio La farò crescere a Dubai Che questa è una cosa Che Tanti non concepiscono Però che però Secondo me Ho fatto una scelta Con mia moglie Ci abbiamo ovviamente Pensato tanto E ricerci tutto tanto Abbiamo messo tutto Sulla bilancia E abbiamo deciso così Crescerà in una scuola Crescerà in una scuola poliglotta E ti dico Non sarei felicissimo Di mandarlo In una scuola pubblica Nella scuola pubblica Per esempio Una roba che a me piace Tantissimo di Dubai Sì Che ho saputo Tramite un amico È proprio il metodo Di studio Per esempio in Italia Anche questa è una roba figa Crescerà in una scuola Di gruppo Sia fondamentale No E cavolo Glielo devi insegnare Fin da subito A questi ragazzi Che cosa vuol dire No È il team work Certo Altro che non copiare Te fai da solo Quello è un errore Grave L'unione dei cervelli Bravissima L'unione dei cervelli Poi ci sono sempre i voti Cioè anche io Toglierei anche i voti Sono un po' Sting de Elon Musk Sì 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 Sono su quell'idea lì E la provo totalmente Sì Ma cresce proprio Un imprinting diverso Oltre al fatto che immagino Imprerà già delle lingue Da subito In un contesto Multietnico Per andare a lavorare All'estero Sono dovuto andare Sei mesi a Cambridge Vendendomi la macchina Perché non sapevo Una parola in inglese Per me Al giornale del 2024 È inconcepibile Che una persona Che esca dalle superiori Non sapevo l'inglese O vent'anni di scuola Cioè Ma si sa Eppure Non sa non anche l'italiano Sì Ok Però Sì Siamo capiti Certo È chiaro che È normale Se uno nasce qui E uno fa sempre quello che può Se hai la possibilità Se ne Avere la possibilità Di mandare tuo figlio In una scuola All'estero È qualcosa Come vedi invece Tornando a Googolandia Un attimo Progetto Googolandia Da qui a Cinque anni Lo vedo Ho 200 mili iscritti Primo podcast In realtà Italiano Visto adesso Googolandia Lo utilizzo molto Per vendere poi Quindi Invece voglio arrivare Al punto in cui Googolandia stessa Sia una fonte Di monetizzazione Importante Penso di arrivarci Certo E poi Chi lo sa Magari facciamo un exit Anche di lì Perché no Perché si potrebbe fare C'è l'idea Di la verità Anche se in quei casi È sempre più difficile Perché ovviamente Ci sono dei volti Sì Quindi Solitamente Quando fai questi exit Come le fanno Le fanno Per esempio Guarda io ti pago Due milioni di euro Acquisisco il marchio Googolandia Però te Devi comunque Presenziare Esatto Che a quel punto Ci dovrei pensare Certo Diventa un po' più difficile Esatto Ti faccio l'ultima domanda Profonda Che sono quelle a cui Non ho mai risposto Comunque Ti provo Ti provo È la prima e l'ultima Sembra domanda Un po' più difficile Tu hai fatto un percorso Con alti e bassi Hai provato tante cose Ricevuti insegnamenti Ho ricevuto successi Insuccessi Eccetera Se dovessi scegliere Un solo Insegnamento Una sola skill Una consapevolezza Da insegnare A tua figlia Una sola Quale potrebbe essere Una sola Sì A mia figlia Cioè la più importante Mettiamola più importante Lo so Cazzo è difficilissimo Quella Consapevolezza Che magari Dici cavolo Questa è una cosa che Magari mi sarebbe piaciuto Avere da prima O non ho Però Mi piacerebbe che lei Ce l'avesse Dovrei Devo pensarci Perché risponderesti A questa domanda No perché è una bellissima domanda E voglio rispondere bene Sì Ci ragioniamo insieme Perché anche per me è difficile Non è che ho la risposta Però ti dico Io ad esempio Così Se devo andare di getto Ragionerei su Consapevolezza Abbondanza Magari alcuni direbbero Autostima Sicurezza Petton fuori Anche l'aiuto Anche l'aiuto dal pubblico Possiamo avere Che che ti disti? Essendo femmina Che può farcela anche da sola Che può rischiare tutto E in qualche modo Comunque ce la fa Quindi si lega la sicurezza Noi genitori ci siamo Noi genitori ci siamo Quindi non è che Siamo contro Neanche Ti diamo troppo l'appoggio Perché ce ne vediamo Tu rischia E vai Adesso la dicono Piere più naturale No vabbè Tanto teniamo Qua siamo spartani Però ti ci ritrovi in questo Assolutamente sì Assolutamente sì No no È proprio questo che ti direi Cioè rischia E non avere paura Di fallire Sai che Veramente tantissime persone Tantissimi Mi scrivono E mi dicano Vorrei provare a fare questo Vorrei provare a fare questo Altro Ma se fallisco Dopo sono rovinato E quello È un freno Pazzesco Sono veramente Super super convinto Ho veramente un consiglio Della mia figlia È importantissimo Che è molto meglio Rischiare E fa dire Che vivere Poi con un rimpianto Pensa se Cioè arrivi a 80 anni Se ci avessi provato E no cazzo Ci fa molto più male Di un effettimento Quindi Sì rischiare Rischiare sempre Comunque Se vuoi qualcosa Ti devi Ti devi buttare Ti devi lanciare Tante persone anche Si ritorna all'inizio Di questa intervista Del posto fisso Cioè Alcuni dicono No Io Cioè Non posso rischiare Di perdere il posto fisso Ma perché? Invece sì Se c'è qualcosa Che vuoi Cioè la ricerca Della felicità Ci deve essere sempre E bisogna buttarsi A 360 gradi Per raggiungerla Poi io Tra l'altro E poi chiudiamo Promesso Poi io mi perdo Credo tantissimo Nella legge Dell'attrazione Tantissimo Io manifesto tantissimo Visualizzo tantissimo Credo fortemente Nell'universo Quindi se Chiaro che Non è che devi pensare E poi arriva Cade dal cielo No Credo in una legge Delle attrazioni Dal momento in cui Poi fai determinate azioni Che ti portano a Ok Mi sono perso Deve rischiare Che non è che devi stare fermo Se vuoi tenere Un po' la cosa Non fai stare fermo Ma Vieni la legge La devi tenere Puttata Devastata Fatti vedere Vieni 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 Lei ragazzi È numero uno L'aiuto da casa La voce fuori dal coro È sempre lei Grazie Grazie Va bene Marco Grazie per il valore Che hai portato Grazie a voi Sei stato pazzesco Grande Grazie mille Mi hai fatto un sacco di piacere No anche a me Assolutamente Dai alla prossima Mi raccomando iscrivetevi Al suo canale Devi fare la cultura Iscrivetevi al canale Continuate a seguirlo Andate a seguirlo anche su Instagram E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao